Ciao, in questo video andiamo ad ascoltare come suona la pedaliera Zoom V6 con i 12 preset degli amplificatori, così come sono usciti dalla pedaliera. Utilizzo un basso della Lakeland, DJ5 con corde la bella appena montate e lo andiamo ad ascoltare su tre suoni diversi, con le dita, con il plettro e con lo slap. Buon ascolto! A presto! 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 Grazie a tutti. 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 Bene, ora che abbiamo ascoltati, fammi sapere qual è il tuo preferito, qual è ti è piaciuto di più, se in generale ti piacciono, qua sotto nei commenti. Personalmente a me forse è il numero 9, il simulatore della Mark Bus, è quello che mi è piaciuto. Bene, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscriviti al canale e ciao a presto.